Buonasera e benvenuti alla finale Stanno giocando Levi Altrego contro Cazzo Proviamo a presentarvi Spira Giorgio, Cozzolino Daniele Allora per il momento state due pari Giorgio cosa vuoi dire della tua squadra? Niente, non ce la facciamo più Personalmente io sono troppo forte Comunque la versante Come state giocando? Diciamoci, la stiamo avanti ancora Ma stiamo a questa maniera Voi invece? È una partita difficile, speriamo di vincere Sì, solo questo Va bene, bocca a Luca Silenzio Buonasera, siamo al termine della partita La mare al pano, i vincitori sono i Cazbrom Che hanno vinto 6 a 3 Presentatevi tutti Borrelli Gianluca Filippo Emanuele Borrelli Francesco Ciro di Dato Ciro di Dato Abruzzese Domenico Allora parla prima con te Come avete giocato? È una bella partita però Erano più forti Ci mancavano molti giocatori a noi E comunque Sono forti lo stesso Complimenti gli avversari Avete tenuto a pareggio per parecchiasi Ci abbiamo fatto Comunque complimenti Grazie Ciao 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 Voi come avete giocato? Noi stavamo giocando bene Siamo andati in vantaggi di due gol Avete parecchia? Abbiamo parecchia Poi abbiamo fatto il 3-2 È entrata la rivelazione del campo Ho fatto 3 Cosa migliore Mai successo alla Mavericks Hanno segnato Gollo Tu a chi lo dedichi? Io? Alla mia amica Tu il tocco lo dedichi? Alla mia fidanzata Anche io la mia fidanzata Che vogliamo aggiungere? Come giù? E' come ti dà la mano? E' come ti dà la mano? Vabbè comunque Ho giocato bene Siete vincitori Vedi il secondo anno Sì Complimenti E andiamo a fare l'abruzzo Ciao Bye